So che dovrei studiare inglese, ma non c'è tempo nella mia vita. Se solo la giornata fosse un po' più lunga, ci sarà un modo? Esiste ed è qualcosa a cui forse non hai mai pensato. Ti interessa? Allora continua ad ascoltare. Qui c'è la tua giornata ed è piena di tutte le cose importanti che devi fare e quindi non hai tempo di studiare inglese. Ma davvero la tua giornata è completamente piena? E quegli spazi vuoti? Potremmo studiare inglese in quegli spazi. E allora che ne dici di dividerli in tanti piccoli momenti? Adesso che è diviso in piccole parti, può andare nel barattolo. WordBeat funziona su questo principio. Guardi spesso il tuo cellulare, giusto? Se potessi studiare inglese, per un breve momento, tutte le volte che controlli il tuo cellulare, non impareresti molto? WordBeat lo fa automaticamente e gratis. Grazie a WordBeat potrai imparare l'inglese usando il tempo che non sapevi di avere. Ogni volta che controlli il tuo cellulare, WordBeat ti fa vedere una nuova parola di inglese sulla tua schermata di blocco e ti aiuta a studiare. Puoi utilizzare ogni singolo momento in cui controlli i tuoi messaggi, guardi YouTube o leggi le notizie, e migliorare piano piano. Inoltre, WordBeat ti ricorda costantemente di studiare inglese tutte le volte che guardi il tuo telefono e quindi ti aiuta a non perdere la concentrazione e la motivazione. Perché stai ancora esitando a scaricare WordBeat? Quanto efficace? Il 90% dei nostri utenti dà a WordBeat un rating di 5 stelle. Riempi gli spazi vuoti della tua vita imparando. Scarica gratuitamente WordBeat adesso!